foro on the floor con le maniche viaggiano in sedicesimi come funziona prima di tutto ricordiamo che cos'è il foro on the floor ho fatto anche un altro video dove ci sono dei tempi con il foro on the floor la cassa che batte tutti i quarti regolarmente quindi un colpo per ogni quarto da questo possono cambiare le figure ritmiche che possono fare le mani in questo caso specifico come hai visto poco fa tratterò i sedicesimi a due mani sul charleston in particolare con delle accentazioni molto carine vediamo l'esercizio nel dettaglio primo movimento colpiamo cassa e charlie di destro sinistro destro sinistro sempre sul charlie il secondo movimento sarà cassa e rullante di destro sinistro destro e poi sinistro accentato sul charlie terzo movimento cassa e charlie di destro sinistro accentato destro accentato sinistro debole quarto movimento metteremo rullante cassa di destro sinistro destro e sinistro deboli sul charleston e da qui proviamo ad unire il nostro esercizio questo è l'esercizio fatto molto lentamente però una volta che vedi che a questa velocità i tuoi accenti rimangono regolari sono corretti sono puliti non non ti dimentichi nulla ecco che puoi cominciare a velocizzare l'esercizio almeno un po tipo mi raccomando stai attento che la cassa e il rullante siano sempre insieme perché è facile farli flemmare farli acciaccare e quindi insomma nel foro on the floor questa cosa è piuttosto basilare bisogna starci molto attenti evitare che il rullante e cassa non arrivi insieme una volta che sei riuscito a farlo ancora un po meglio possiamo andare ancora più veloce ti ricordo che per fare bene questi accenti quando cominci soprattutto ad accelerare ti conviene usare i deboli cioè tutti i colpi non accentati diciamo usando una porzione di due tre centimetri della bacchetta mentre quando vai a colpire colpi accentati io andrai a cercare con la bacchetta il charleston in questa posizione più o meno sulla spalla della bacchetta cercando di guadagnare centimetri su di essa questo farà in modo che tu non debba modificare molto il tuo movimento e ti permetterà di avere degli accenti molto più marcati sul charleston perché perché sostanzialmente mettiamo più peso della bacchetta sul nostro piatto e quindi il suono risulterà più marcato questo è un po il movimento importante di questo groove perché è importante suonare questo groove questo groove è importante perché il floor on the floor con questa figurazione di charleston o altre figurazioni magari quelli in ottavi sempre sul charleston sono indicatissimi per far ballare la gente quindi ti potrebbe capitare di dover suonare a qualche festa oppure qualche concerto in particolare e dove sia indicato far divertire la gente facendola ballare quindi insomma è una delle cose che tantissime cover band sono deputate a fare nei locali o nelle serate questo secondo me è un tempo che possiamo anche definire basilare da sapere uno di quei must have nel proprio repertorio perché insomma sicuramente prima o poi nell'esperienza di batterista viene fuori e bisogna saperlo spero che questo video ti sia utile questo concetto secondo me è piuttosto importante nella vita di un batterista quindi io cerco di condividerlo con te sperando che tu riesca a farne tesoro se il video ti è piaciuto ti invito anche a seguirmi in altri video all'interno del mio canale per oggi è tutto io come sempre ti ringrazio e ti dico ciao drummer